buongiorno a tutti e bentrovati nel canale arte allegra quest'oggi per il nostro consueto tour nei venti comuni del parco dell'ettena ci troviamo a pedara pedara a circa 14.400 abitanti su una superficie di circa 20 chilometri quadrati si trova a un'altezza di 610 metri sopra il livello del mare e dista 14 chilometri da catania sul versante meridionale dell'etna ancora una volta vi do il benvenuto a pedara il paese di pedara è situato alle falde dell'etna fra i comuni di tre castagni e nicolosi in provincia di catania il suo nome vuol dire ai piedi dell'ara con riferimento a fatti mitologici relativi ai resti di una costruzione un altare per l'appunto esistente sull'etna e consacrato a giove tneo che per anni fu simbolo del comune e da cui oggi prende il nome la sua strada principale un'altra origine ci riconduce alla presenza un tempo di molti alberi di pero nella parte bassa del paese infatti in siciliano pedara si dice pirara durante la stagione estiva proprio per il clima fresco e luogo di villeggiatura nella parte più a nord si trova il bosco della tarderia ampia stenzione di flora montana con querceti e castagneti ricca di alberi da frutto e di vigneti che grazie al suolo vulcanico si arricchiscono di sapori inconfondibili per non parlare in autunno dei funghi di cui si svolge una sagra proprio per la circostanza pedara inoltre è apprezzata da tutti per la bellezza dei suoi paesaggi e la salubrità del suo clima il paese infatti adatto per percorrere interessanti itinerari culturali e naturalistici che partendo dal centro storico può giungere con facilità fino ai punti più panoramici del proprio territorio là dove l'urbanizzazione si dirada e lascia spazio a una ricca vegetazione da pedara si raggiunge facilmente l'etna circa 15 chilometri lungo la strada provinciale per l'etna vi è la fossa del salto del cane un antico cratere spento con un'area attrezzata e infatti un punto base per l'escursionismo del parco dell'etna pedara nei secoli si è sviluppata attorno agli antichi crateri di monte difeso e monte troina testimoni della continua evoluzione di questo centro non si possiedono notizie certe sulle sue origini perché le numerose colate laviche ne hanno quasi del tutto cancellato le tracce si sa però che anticamente l'abitato era situato più a nord dell'attuale e il ritrovamento casuale di alcuni reperti testimonierebbe l'origine greca del luogo sotto i normanni pedara faceva parte delle vigne di catania e già in quel periodo il primitivo insediamento rurale cominciava a formare un villaggio di agricoltori a nord dell'odierno paese purtroppo però è stata distrutta per molte volte a causa delle eruzioni e dei terremoti ed ecco che allora don diego pappalardo sacerdote pedarese e cavaliere dell'ordine di malta ricostruì in meno di vent'anni e per ben due volte la chiesa madre di santa caterina l'attuale basilica e incoraggiò gli abitanti per una rapida riedificazione del paese tuttavia carestia e miseria segnarono pedara in non susseguirsi di eventi positivi ma anche altrettanto negativi per la cittadina durante il mio tour per pedara ho potuto visitare la basilica di santa caterina oltre a essere il monumento più importante di pedara per il suo particolare contenuto artistico è una delle chiese più visitate e studiate della provincia l'intero complesso architettonico è considerato uno splendido esempio di chiesa nera dell'etna dove il sapiente e coraggioso utilizzo della pietra lavica e degli intoraci trova qui una delle sue massime espressioni la prima costruzione fu completata nel 1547 ed era in stile romanico oltre un secolo dopo la struttura si dimostrò insufficiente a contenere i fedeli tanto che nel 1682 fu demolita per una più spaziosa e attrezzata purtroppo però l'11 gennaio del 1693 il terremoto piegò anche pedara e della chiesa appena ricostruita rimase ben poco la grandiosa opera di ricostruzione richiese oltre dieci anni di lavoro e fu compiuta dal sacerdote piedarese come appunto detto don diego pappalardo solo nel 1705 all'interno possiamo ammirare diversi capolavori il portale interno è il monumento più antico di pedara costruito in pietra lavica e bianca la l'arco è in stile romanico e sostiene una porta di tavole di castagno dalla quale emergono 122 grossi chiodi che secondo la tradizione rappresentano il numero delle famiglie che contribuirono alla sua realizzazione all'esterno invece possiamo ammirare la torre campanaria il cuspide con maioliche policrome le sculture in pietra sia dei portali che delle finestre è un ormai raro esemplare di meridiana nell'aprile del 1996 papa giovanni paolo secondo l'ha elevata al rango di basilica minore oltre a questa durante il mio tour peppe d'ara ho potuto vedere solo dall'esterno il santuario di maria santissima dell'annunziata e anche la chiesa di santo antonio abbate e dopo queste belle immagini di pedara io come sempre vi saluto vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo comune del parco dell'Etna ciao e una buona giornata a tutti ciao 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 Grazie a tutti.